Welcome ragazzi Ciao ragazzi nella seconda parte dove io prenderò la di vincita Dario non azzecherà uno, uno solo dico guardate Dario come già iniziassisti Dario vede tutto L'ho chiuso io se vuoi toccare Mi rispondo Comunque ragazzi iniziamo a prendere le cose Aspetta che devo coprire Perfetto Ok ragazzi Iniziamo a prendere subito le cose Va bene Ragazzi vedo Voglio sentire il rumore Vi faccio vedere cos'è Vedete C'è Qualcosa di assurdo come potete vedere Immagino Metti la messa a fuoco anche su di me perchè si sarà levato ovviamente No no ti vedi perfetto Vedi si vede bene Ora si ora si Vado prima un po' meno però ora si Si deve vedere tutto al 100% Ragazzi Dario non sa cosa sto combinando Io diventerò orgo Mi fa stare otto ore con la fascia Allora c'è un problema Il buco è piccolino quindi il tuo dito non entra Se mi fai sentire il rumore Cos'è? Cos'è? Che schifo Vabbè me lo schiacci nel dito non lo so Ma l'odore intanto Che cos'è? Che cos'è? L'odore Fammi sentire di nuovo l'odore Ma è ammuffita sta cosa Fammi sentire l'odore Fammi sentire l'odore L'odore è di muff È ammuffita Ragazzi qua vi faccio vedere a voi Se non è ammuffita una cosa del genere Cos'è? C'è ammuffita Fammi sentire almeno l'odore No 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 tu ci ficchi il detino Su ca, su ca, su ca No 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 Dai! Dai da dove c'erano! Piano! Piano! Il mio dito! Coglionato Ehh! Ma stai scherpendo Cos'è? Cos'è? Cosa è!? Cos'era? Questa era? Bosto! Mi arrendolo cos'è? Panna H.D. Panna da cucina Buono, è digeribile Molto disasperse, signori E quante cose Bene, ragazzi Mi hai fatto ficcare il dito dentro questo schifo Che io da anni che non butto Sei una merda A posto ragazzi Dario molto sconsolato Grazie, vedete cosa muffi Vi facciamo vedere il terzo prodotto Attendo la messa a fuoco Tutto a posto cameraman? Si tutto a posto Adesso ritorniamo alla messa a fuoco a Dario Ok buono A posto Due set Voglio sentire Il problema è che In questo prodotto Non puoi Mi mettergli il dito Cioè te la posso versare Fammi sentire l'odore Ketchup No Come no? No, sei vicino No, 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 voglio sentire Anzi se vuoi nella bocca Te la pia la pia No, zucca POMODORO POMODORO Esatto E' un doppio concentrato di pomodoro Signori Cosa che a Dario piace molto Concentrato di pomodoro Quindi stiamo 1 a 1 Io ne ho indovinato 1 Tu pure 1 Il prossimo non lo indovinerai E finirà Ragazzi siamo al terzo Dico al terzo Round diciamo Guardate qui Vedete la messa a fuoco? No, alzo un pochino Aspetta Si vede cos'è questa merda? Cazzo fa Ok Vi faccio il labbiato Si è capito? Vabbè Vabbè ragazzi Guardate C'ha dato Vedete? C'ha dato C'ha dato Bene Ma andiamo subito A quello che Dario vuole donare L'ho capito che cos'è Che cos'è? Lo so che cos'è Aspetta fammi vedere di nuovo Lo so che cos'è Aspetta Minchia lo so Mia madre lo fa Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Qualcosa di piccante Cazzo L'aglio Aspetta Si perchè mi lacrimavano Io Dario Dario si è messo in bocca Un po' Nel dente diciamo Beh ragazzi La sfida è finita Dario molto contento Ho vinto ragazzi 2 a 1 2 a 1 Questo è un gran viola di me Comunque E' quello che ho sapato a nonna Comunque Mi hanno andato ne uso Ragazzi ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao